Vorrei ora presentarvi alcuni documenti storici relativi all'età di Augusto. L'età di Augusto va dal 31 a.C., data della Battaglia di Azio, in cui Ottaviano Augusto sconfigge il proprio avversario Antonio e la regina d'Egitto Cleopatra, fino al 14 d.C., l'anno di morte di Augusto. Il nome completo dell'imperatore Augusto è Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto. Si chiamava inizialmente Ottavio, ma era stato adottato da Gaio Giulio Cesare, quindi ne aveva assunto il nome, trasformando il proprio nome in Ottaviano. Inoltre aveva aggiunto a tutti i nomi precedenti anche il nome di Augusto, che è un titolo onorifico, cioè una parola per indicare rispetto e un aggettivo che indica anche la fortuna che aveva avuto Roma ad avere un uomo come lui. Questo termine gli era stato attribuito dal Senato e lui lo aggiunge al suo nome come nome proprio. Questo è il nome latino, Gaius Iulius Cesare Ottavianus Augustus, e questa è l'abbreviazione del suo nome e dei suoi titoli, che potete vedere se andate a visitare qualche monumento che cita l'imperatore Augusto. Cesare è un nome che diventa poi un titolo, mentre Augusto è una parola che era quasi un titolo, un'onorificenza che Augusto fa diventare il suo nome proprio, invece Cesare, il nome proprio di Giulio Cesare, diventerà poi un termine utilizzato da tutti gli imperatori per indicare proprio il re, il sovrano, un Cesare, un re. Comunque sia, questo personaggio è meglio conosciuto con il nome di Ottaviano o Augusto. Per comodità, preferisco chiamarlo sempre Augusto. È stato, si può dire, il primo imperatore romano, dal 27 a.C. al 14 d.C., anche se, chiaramente, lui non voleva mai farsi chiamare né imperatore né sovrano né re. Anzi, nel 27 a.C. egli rimise tutte le cariche che gli avevano dato nelle mani del Senato, cioè rinunciò a tutte le cariche che aveva avuto. In cambio, il Senato gli diede un'altra carica, ebbe un imperio proconsolare che lo rese capo dell'esercito, cioè lui rinuncia a tutte le cariche, tra cui quella di dittatore, e in cambio viene nominato capo dell'esercito. Il Senato romano, nel 27 a.C., gli conferì il titolo di Augustus. Ecco, Augustus significa il più autorevole, cioè il più importante, diciamo così, fra i politici di Roma. Il suo nome ufficiale, quindi da quel momento, fu Imperator Cesar Divi Filius Augustus. Quindi cambia ancora nome e ci aggiunge anche il titolo di Imperator, che vuol dire comandante, in questo caso, Cesare Divi Filius, figlio del divo Cesare, del divino Cesare Augustus. Augusto volle trasmettere di sé un'immagine positiva, come un principe pacifico, e volle trasmettere di Roma un'immagine altrettanto positiva, come città trionfatrice su tutto il mondo, trionfatrice universale. Per fare questo, per dare una buona immagine di Roma e di sé, usò i mezzi che aveva a disposizione, immagini di propaganda, pubblicità sostanzialmente. Poi abbellì la città di Roma, con monumenti e opere d'arte, e anche con opere pubbliche che la resero migliore come comodità di vita. E protesse gli intellettuali. Quindi Augusto è un imperatore che aiuta e protegge gli intellettuali, gli scrittori, i poeti e gli artisti. Perché li protegge? Perché con le loro opere e le loro scritture celebrano Augusto stesso e Roma. appunto gli intellettuali che celebravano il Principato, cioè la sua forma di governo. Poi riqualificò il Senato, c'erano tantissimi senatori, tra cui anche persone indegne. Augusto ne riduce il numero, però dà più prestigio al Senato. E dà più potere ai cavalieri, gli equites, equites in latino sono i cavalieri. Fa inoltre importanti riforme, tra cui una riforma fiscale e monetaria. Ma andiamo subito a vedere i documenti storici. Questa è una carta dell'impero all'epoca di Augusto. E poi ci ritorneremo leggendo poi appunto uno dei documenti proposti. Vedete soltanto in giallo i territori che appartenevano a Roma prima del 31 a.C. e quindi considerate che tutto quello che è di altri colori, quindi dal verde scuro al verde più chiaro, sono conquiste fatte da Augusto sotto il suo regno. E poi invece i territori in rosa sono territori non proprio direttamente sottomessi, ma clienti di Roma, clienti nel senso che dipendevano in qualche modo da Roma. Ecco, il primo documento storico è un'opera architettonica e scultoria. Si tratta della Ara Pacis, cioè l'altare della pace, tradotto in italiano. Il nome completo, per la verità, come vedete in basso, è Ara Pacis Auguste, cioè l'altare della pace di Augusto. È un altare, quindi un monumento religioso sacro dedicato agli dèi, in particolare alla divinità, la dea pace. Ed è stato fatto costruire a Roma, si trova a Roma, da Augusto, inaugurato nel 9 a.C. Questo altare è il simbolo della pace e della prosperità, cioè della ricchezza, che Roma raggiunge in epoca augustea, raggiunge quando Augusto è al potere, come risultato proprio della pace. Ora, prima abbiamo visto una carta geografica che ci mostrava nuove conquiste nell'epoca di Augusto. Sì, ebbene, le nuove conquiste sono tutte in territori di confine. Roma e le province centrali dell'impero rimangono in pace in epoca di Augusto. E proprio la celebrazione della pace è rappresentata in questo monumento. Qua abbiamo la mappa dell'Ara Pacis. Vedete, è una costruzione con una scalinata, l'entrata principale. Ci sono dei bassorilievi e delle raffigurazioni simboliche lungo tutti i lati, poi andremo ad analizzarne alcune. E entrando in quest'area si accedeva all'altare vero e proprio dove si potevano appunto celebrare i sacrifici, le adorazioni alla divinità, alla dea pace. Augusto stesso scrive queste parole in un'altra opera in cui parla appunto dell'altare della pace. Quando tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, compiute felicemente le imprese in quelle province, il Senato decretò che per il mio ritorno si dovesse consacrare l'Ara della pace Augusta presso il campo marzio e dispose che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali celebrassero un sacrificio annuale. Ecco, quindi ricorda nel Res Geste di V. Augusti un'opera in cui Augusto parla delle sue più importanti azioni compiute. Ormai è anziano, scrive un resoconto di tutte le sue azioni importanti e si ricorda anche di avere dedicato questo altare alla dea pace dopo essere tornato vittorioso da alcune missioni all'estero. e questo monumento è stato permesso, anzi è stato il Senato non solo l'ha permesso ma ha invitato Augusto a consacrare questo altare. Andiamo ora a vedere alcune delle immagini che sono rappresentate sui lati dell'Ara Paci. Se vedete qua c'è il nord, c'è tutto un basso rilievo sul lato nord e un basso rilievo sul lato sud. Soffermiamoci solamente sul lato sud che è il più importante, anche il meglio conservato. Ecco il fregio del lato sud, la decorazione del lato sud. Si tratta di un basso rilievo, cioè una scultura non a tutto tondo, non completa, ma la parte dietro appunto rimane invisibile. Vi dico già che sul lato nord c'è la stessa raffigurazione e con altri personaggi. E' sempre la raffigurazione di un corteo religioso proprio in onore della Dea Paces. E a questo corteo sono presenti tutti i personaggi più importanti della politica e della religione di Roma del tempo. Qua c'è Augusto all'inizio che si vede un po' rovinato e aveva sul capo un velo che indicava la sua funzione anche di sacerdote, pontefice massimo. Un titolo che acquisisce dopo aver acquisito molti altri titoli, quindi anche guida religiosa. Ci sono poi dei personaggi che hanno cariche specifiche di tipo religioso e dopo la rappresentazione dei personaggi del corteo ufficiale viene a seguire la famiglia di Augusto. Ecco lì, questo è il seguito del fregio, del basso rilievo che vi ho mostrato poco fa. Augusto si trova più a sinistra e ci sono poi alcuni personaggi, vi dicevo, cariche religiose e poi la famiglia di Augusto. Altri rappresentanti della famiglia di Augusto si trovano dall'altra parte dell'Arapacis nel lato nord. Ma chiaramente i personaggi presenti sul basso rilievo del lato sud presentano un progetto che Augusto aveva già fin dall'inizio di successione al trono. Questo è l'inizio della processione della famiglia imperiale. Questa successione, come vi dicevo, ricalca un preciso schema proprio legata alla successione al trono come Augusto la concepiva, come Augusto pensava che dovesse essere attorno al 10-9 avanti Cristo. Poi non fu così perché Augusto visse molto di più fino al 14-11 e dopo Cristo e quindi chiaramente molti personaggi di questi appartenenti alla famiglia erano morti nel frattempo. La processione inizia, qua ci sono tutte le descrizioni dei personaggi che appunto appartengono alla sfera religiosa e poi la famiglia. Sono disposti in ordine di importanza secondo una linea dinastica che Augusto aveva prestabilito e qua c'è la moglie Livia. Ora è inutile soffermarsi sui nomi dei bambini e dei più giovani, più grandi, alcuni generali, alcuni parenti di diverso tipo con Augusto. Però sappiate che aveva già in mente l'imperatore di lasciare il trono, diciamo, a un suo parente. Questa è la prospettiva dell'Arapacis sezionata, cioè se si potesse rendere trasparente un lato, come vi dicevo, come abbiamo già visto in pianta, si vedrebbe la scalinata, l'entrata e l'altare. E appunto il basso rilievo che abbiamo visto si trova qua sul lato sud. Questa è l'Arapacis nel contesto geografico.